Ho una brutta notizia per te. Bene e male non esistono. Quanto meno non esistono al di fuori dell'esperienza, della storia o del discorso etico umano. Dunque non possono essere risolti o indagati con gli strumenti offerti da scienza e ragione. Ci vuole dell'altro. E allora siediti, amico mio, e stappati una birra. Abbiamo un sacco di cose di cui parlare. Ciao crononauta e bentornato su Spazi Attorcigliati. Oggi sono qui per farti sapere che uno spettro si aggira per l'Europa. Lo spettro della razionalità. E intendiamoci, non parlo naturalmente della razionalità in senso stretto, con quella mi ci guadagno il pane, ma di una perversione, un ribaltamento, un malinteso che di razionale ha ben poco. Negli ultimi anni, in risposta all'avanzata dei cosiddetti populismi, è emerso e si è coagulato un movimento di autoproclamati paladini della ragione. Oggi sufficientemente omogeneo da consentire un'analisi dei suoi tratti generali e caratteristici. Si tratta, in soldoni, di un populismo di segno opposto. Con una diversa cultura, un diverso pubblico e metodi più sottili. Ma originato da un altrettanto grave fraintendimento del mondo. Un rovesciamento pericoloso, ottuso e potenzialmente esplosivo. Una terrificante rimozione psicologica collettiva. La rimozione della politica. La tesi centrale di questi personaggi può essere riassunta come segue. Scienza e ragione possono condurci al bene comune. Ebbene, una simile prospettiva non dimostra solo una totale ignoranza politica, ma palesa anche una profonda incomprensione di cosa sia il metodo scientifico. Questo risulta tanto più assurdo quanto più ci si sofferma sul fatto che ragione, scienza ed oggettività siano stati trasformati nei pilastri identitari della tribù dei razionalisti, nei loro tesserini d'appartenenza. Cerchiamo quindi di spacchettare l'implicito, il sottointeso e le conseguenze di una simile posizione, evidenziandone le contraddizioni e, ironicamente, le irrazionalità. Lascia però che ti chiarisca un punto prima di continuare. Non ho alcuna intenzione di raccontarti perché io ritenga che le analisi del populismo prodotte dai razionalisti siano superficiali, grossolane, elitiste e sostanzialmente scorrette. Se ti interessa, ne possiamo parlare in un'occasione diversa, magari di fronte ad un'altra birra. Oggi voglio solo e soltanto portare a galla le debolezze intrinseche di questo atteggiamento e la sua totale incapacità di proporre una visione organica del reale. I problemi, quando qualcuno parla di ricerca scientifica del bene comune, sono due. Uno, non esiste un bene comune. E due, anche nel caso in cui esistesse, la scienza non sarebbe mai in grado di identificarlo. Partiamo dalla prima questione. Non sono qui per spiegarti quanto ciò che mi muove si risolva in un esistenzialismo attivo. Quanto io ci creda davvero soli e responsabilizzati dalla nostra solitudine. Quanto io non possa pensare ad un bene esterno all'uomo, dato a priori, ma solo ad un bene prodotto dall'uomo. Nel pensiero, nella parola e nell'azione. Un bene che non affonda le sue radici nella metafisica, ma nella terra e nella materia. Un bene storico, dinamico, negoziale, ma non per questo meno reale. Non per questo meno in grado di deviare il corso della storia. Un bene emergente dalla concettualizzazione collettiva di miliardi di coscienze pulsanti, capace di farsi forza di propulsione e di tessere in un cerchio infinito il ragionare di chi un giorno ne riplasmerà la forma. Non sono qui per raccontarti quanto questo, a dispetto delle aspettative, renda il bene centrale nel mio pensiero politico. Quanto mi faccia sentire in dovere di lasciare un solco in accordo con il mio senso del bene, prodotto da chissà quale intrecciarsi di biologia e cultura. Quanto mi convinca che il bene non sia garantito da alcuna entità pre-umana. E quanto questo faccia sì che senta il peso di dover lottare centimetro dopo centimetro, dopo centimetro, dopo centimetro, dopo centimetro per affermare i miei valori. Non è questo il punto della nostra conversazione. Ancora una volta, sentiti libero di offrirmi una birra e sentirmene blatterare. Se ti va. Il messaggio che voglio trasmetterti, amico mio, è che il bene è sottile, complesso, dinamico, articolato e certamente dipendente dalla mente che ne forgia i contorni. E non importa quanto certe battaglie possano sembrare rivolte ad un fantomatico bene comune, un'analisi al microscopio rivelerà sempre mediazioni tra istanze contraddittorie, scontri e precari equilibri. Questo perché il sistema di valori che ognuno di noi si porta presso è unico e irripetibile. Quanto meno nei suoi dettagli. Ogni scelta politica è gestione di un conflitto tra individui o gruppi di individui che porta qualcuno a guadagnare qualcosa e qualcun altro inevitabilmente a perdere qualcosa. è una spartizione della torta e te lo dice un diabetico. Cerchiamo di diventare grandi e uscire dal mondo delle favole. Anche quando la torta cresce e tutti ne mangiamo una fetta è necessario spartirla. e la spartizione è arbitraria. Strutturata su regole appunto storiche e negoziale. In merito a questo problema ti confesso e lo faccio con un po' di imbarazzo la scienza non ha nulla da dire. Anche questioni cristalline come la lotta al cambiamento climatico ci dividono perché fanno esplodere i disallineamenti tra i nostri sistemi di valori e le nostre priorità psicologiche. Amplificano le dissonanze. La ricerca può individuare le cause del riscaldamento globale può tracciare i limiti dell'antropocene e può suggerirci delle soluzioni pratiche e tecniche per arrestare il collasso ecologico della nostra biosfera. Cerca di non fraintendermi. Fondare le discussioni su dati empirici è fondamentale. Ma è tutta qui la questione? Assolutamente no! Perché un novantenne dovrebbe scendere a compromessi con il suo stile di vita per garantirne uno dignitoso a dei pronipoti che non incontrerà mai. perché un magnate del petrolio dovrebbe pagare una carbon tax invece che trasferirsi in Groenlandia a attendere che si trasformi che ne so nel Madagascar e lasciare il mondo dei vivi prima di patire ogni genere di contraccolpo? Perché abbiamo il dovere di offrire un futuro ai nostri figli? Queste sono domande cruciali caro Albert. ma non sono domande scientifiche e tu lo sai meglio di me. Non prendere parte al discorso etico politico che ne salda lo scheletro significa rimuoverle lasciando spazio a maltusiani egoisti e suprematisti feroci. Gli esempi in tal senso si sprecano. Fino a che punto possiamo limitare la libertà individuale al fine di contenere una pandemia come quella che stiamo attraversando? Fino a che punto possiamo mettere in discussione il diritto di proprietà dei più ricchi per garantire una vita dignitosa a tutti quanti? cosa vogliamo fare del nostro domani? La scienza non ha gli strumenti per sbrogliare questi nodi. Qui mio caro è l'arena della politica e lei a dover suggerire la direzione orientando l'agire collettivo e dirimendo le questioni etiche. E quando dico politica non mi riferisco solo alla gestione della cosa pubblica ma a quell'enorme dibattito culturale di cui anche questo video fa parte che la legittima e ne forgia i programmi. Una volta deciso dove andare noto uno stato di partenza alla cui diagnosi partecipa anche ma non solo la ricerca scientifica quest'ultima può fornire uno straordinario armamentario di strumenti per riuscire ad arrivarci. La scienza costruisce l'automobile ed implementa in essa un navigatore satellitare di ultima generazione basato proprio sulle scoperte del nostro caro Albert ma non può non deve e non vuole scegliere autonomamente la destinazione del viaggio. Quello è il compito della politica e non può essere rimosso. Ogni vuoto in tal senso viene colmato spesso da slanci brutali e disperati non sporcarsi le mani sottraendosi alla politica in senso stretto e abbandonare l'arena concedendo a chiunque stia dall'altra parte di fare il bello ed il cattivo tempo che si tratti di un conservatore colluso con i potentati del petrolio o di un fantasioso teorico della pandemia complotto. Dobbiamo iniziare a trattare i nostri avversari politici come tali. Dobbiamo abbandonare il paternalismo e la presunzione di chi crede che ogni opinione diversa dalla sua possa essere curata con una dieta a base di dati e ragione. Dobbiamo smetterla di credere a sciocchezze come Rational People Cannot Disagree Forever perché l'accordo non nasce solo dalla condivisione di un insieme di dati di partenza e di un metodo di ragionamento ma anche da un allineamento morale. In tal senso è ridicolo oltre ogni limite concepibile credere che i lobbisti del petrolio forti di squadre di eccellenti analisti e di conservatori della cricca di Bannon che possono letteralmente finanziare ogni genere di indagine e studio non siano informati sul catastrofico collasso dell'equilibrio ecologico della biosfera che stiamo attraversando. Semplicemente noto lo stato delle cose sono orientati da una bussola morale disallineata rispetto a quella del sottoscritto. Non sono poveri cuccioli fragili infreddoliti ignoranti e digiuni di dati ma attori consapevoli che antepongono un interesse economico e di consenso capitalizzabile immediatamente alla preservazione delle condizioni che renderanno possibile la sopravvivenza dei nostri figli e nipoti e come tali vanno affrontati ma sul piano della politica. Credere di poter bypassare questo passaggio caro Albert ed affidarsi completamente ad un'evangelizzazione razionale in grado di appianare ogni conflitto tra gli uomini è pensiero magico simile a quello di chi si riempie la casa di amuleti porta fortuna. I totalitarismi del novecento furono enormi macchine razionali ma rivolte verso un fine aberrante scelto il loro indirizzo etico l'hanno perseguito con un rigore scientifico e una precisione assoluta poche catene di controllo furono tanto oliate ed accurate quanto la gestione tecnica dei campi di sterminio poche imprese furono scientificamente efficaci come la costruzione di lancio della bomba atomica quella mio caro è politica razionale con un indirizzo etico chiaro quando ti parlano di scelte razionali ti parlano anche di questo non era la ragione dei nazisti ad essere annebbiata era la loro morale ad essere terrificante e l'hanno messa in pratica scientificamente se due persone sono razionali possono essere politicamente agli antipodi come me e i nazisti dunque la politica deve prendersi le sue responsabilità deve diventare adulta e deve smetterla di cercare un principio regolatore universale ed oggettivo i conflitti etici non possono essere aggirati scientificamente ma vanno affrontati sul piano del dibattito filosofico e disattorcigliati di volta in volta questa amico è la responsabilità che ci impone il nostro senso del bene il video finisce qui non dimenticarti di farmi sapere cosa ne pensi nei commenti e di condividerlo attraverso i tuoi canali social per aiutarmi a crescere e raggiungere il maggior numero possibile di persone inoltre mi dispiace farti sapere che spazi attorcigliati è un progetto in pesante perdita economica se vuoi aiutarmi a renderlo sostenibile sul medio lungo termine puoi fare due cose la prima è acquistare il mio merchandising ufficiale come questa splendida maglietta e la seconda è sottoscrivere il mio programma di finanziamento diffuso su tpi accedendo a diversi premi mensili ti ringrazio in anticipo per il tuo sostegno e per essere arrivato fin qui ricordati che la cosa importante quando ti getti in un buco nero è portare la testa a presto crononauta in un buco nero in un buco nero in un buco nero Grazie a tutti.